Alleluia, Alleluia Parola Bene, la prima lettura avviene dal libro del profeta Geremia e dice questa, contiene questa frase, Geremia si sta confessando e dice il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Mentre il Vangelo dice non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Sono parole rassicuranti, incoraggianti, in cui Geremia si sente consolato, confortato, accompagnato dal Signore e Gesù vuole rinforzare gli apostoli che appunto sono sottoposti a forti contestazioni dalla sinagoga giudaica nel momento in cui viene scritto il Vangelo di Matteo. Alleluia 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 Alleluia